Stamattina attorno alle 5.30 in un condominio di Kles, dal vano ascensore è partito un incendio subito domato dai vigili del fuoco. Gran paura per una trentina di persone che abitavano nel palazzo ma per fortuna non c'è stato nessun ferito grave. Le fiamme sono partite con tutta probabilità da qui forse da un cortocircuito avvenuto nella cabina dell'ascensore datato 1964. È stato un risveglio di paura, di panico, di grande concitazione. Erano le 5.30 quando gli abitanti di questa palazzina di 5 piani in via dalla Fiora a Kles sono stati svegliati di soprassalto. Fumo, odore di bruciato, fiamme che venivano dal vecchio ascensore. Subito intervenuti i pompieri che hanno avuto ragione del fuoco evitando che nessuna persona rimanesse ferita. L'incendio è rimasto circoscritto proprio all'ascensore. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale per un principio di intossicazione da fumo. Quasi tutti i residenti, una trentina e in gran parte anziani, si sono messi in salvo da soli. Solo alcuni sono stati recuperati con l'autoscala dei vigili del fuoco in quanto nel vano scala si era formato un denso fumo. Una ventina di persone è stata portata all'ospedale di Kles per accertamenti. Quattro sono stati trasferiti al Santa Chiara a Trento. Dopo alcune verifiche da parte degli esperti la palazzina è già stata dichiarata agibile e quindi idonea per l'abitazione. Malgrado l'odore acre di fumo si sentirà ancora per alcuni giorni. Indagini in corso da parte dei vigili del fuoco per appurare le esatte cause dell'incendio. Grazie. 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 Grazie.